E' passato quasi un mese dall'inizio delle scuole, ma ancora i problemi legati alla ripresa e in convivenza con il virus sembrano più che attuali. Lo testimoniano le numerose segnalazioni che riguardano ancora una volta la questione autobus. Sovraffollamento, mancato utilizzo della mascherina e superamento dell'80% della capienza imposto dalle normative. Questa, l'opinione che gli studenti e i passeggeri hanno dei mezzi pubblici. C'è sempre la gente in piedi in mezzo e infatti non c'è il distanziamento che ci avevano garantito quando abbiamo pagato l'abbonamento. Esattamente, secondo noi non stanno rispettando l'80% di capienza di cui parlavano. C'è molta gente anche in piedi e molta confusione anche proprio negli autobus con le linee e tutto quanto. Per esempio noi dovremmo prendere la Fossombrone Tavernelle quando invece c'è gente che scende a Calcinelli e non c'entra niente con noi e questo crea logicamente assembramenti. La situazione secondo me è disastrosa. C'è nel senso che ci sono comunque degli assembramenti di ragazzi davanti all'entrata del scuolabus e magari alcuni ragazzi non tengono neanche la mascherina correttamente. Quindi secondo me non è molto positiva come situazione. Dal punto di vista degli autisti però la situazione risulta ben diversa. Sappiamo che ogni tipologia di autobus che portiamo sappiamo quante persone di capienza c'è. Quindi noi portati quelli, saliti quelli lì, contati, basta, boom, chiudiamo. Ma quindi gli autobus sono realmente così affollati come dicono le segnalazioni? Ma diciamo, come dicono le tastirine facili, come le chiamo io, no, dai. Secondo me no. Io dico sempre, cioè questi tastirini facili, io li chiamo tastirini facili perché poi vanno subito a mettere varie poste. Se la mattina si alzano con noi alle sei, sei e mezza quando partiamo, li invitiamo a venire sull'autobus e vedono insieme a noi, no, proprio non guardare l'attimo discesa o salita davanti a una scuola, davanti a una capolinea così perché è normale che c'è comunque il gruppo dei ragazzi che fa fatica a tenere i ragazzi. Ma una volta che partiamo, l'autobus, porte chiuse e partiamo, vediamo dentro come siamo impostati. Oggi è intervenuto Massimo Benedetti per far luce sulla questione e ribadire che Adribus ce la sta mettendo tutta per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri. Gli autobus sembrano affollati, magari lo sono, ma sono totalmente rispettosi delle norme. Rispetto a quanto previsto dalla carta di circolazione siamo non solo sotto ma in alcuni casi anche di un 10% o anche un 15%. Abbiamo anche delle segnalazioni però sul fatto che alcuni ragazzi non tengono la mascherina. Allora quando salgono il conducente verifica che ce l'ha, poi quando si sale a bordo spesso e volentieri i ragazzi hanno la tentazione di levarla. Ecco, noi adesso metteremo fuori entro oggi e domani anche un ordine di servizio per i conducenti che se i ragazzi non hanno tutte le mascherine correttamente indossate possono fermare l'autobus e chiamare le forze dell'ordine e poi corre il pericolo di essere denunciati per interruzione di pubblico servizio. Quindi è una cosa che teniamo a precisare.